E se alla fine Giorgia Meloni e Carlo Calenda fregassero tutti, soprattutto gli alleati, e decidessero di correre da soli il 25 settembre? A prevedere uno tsunami elettorale con ricadute imprevedibili l'ISUL Parlamento e Marcello Sorgi, editorialista della stampa tra i più autorevoli notisti politici italiani. Finirà nel più semplice dei modi, ogni partito andrà al voto candidando il proprio leader come premier, e tutte queste liti della prima settimana di campagna elettorale verranno dimenticate. Un colpo di teatro che servirà, spiega Sorgi, a motivare i rifiuti dell'ultima ora a scegliere candidati comuni dei collegi uninominali. Insomma, i due leader potrebbero decidere di rovesciare i rispettivi tavoli, mettendo in grave difficoltà chi ne contesta il ruolo. E il caso per esempio di Silvio Berlusconi, che rifiuta la candidatura a premier della Meloni. Finora d'altronde, proprio il fatto di aver navigato in solitaria ha garantito a Fratelli d'Italia e ad Azione di Calenda di accrescere a dismisura le loro quote percentuali nei sondaggi, ripetendo i loro no a qualsiasi offerta di alleanza. Certo, per la Meloni è più difficile perché l'alleanza di centro-destra è naturale e anche l'unica possibilità per vincere le elezioni. Indubbiamente suggerisce Sorgi la candidatura a Palazzo Chigi aggiunge molto dal punto di vista della propaganda, questa è la ragione per cui Meloni continuerà a insistere i suoi alleati a nicchiare. Diverso è il caso di Calenda, il suo partito ha raggiunto il 6%, ma non può aspirare a un ruolo egemonico a differenza di FDI. Un'alleanza strutturale con il PD rischierebbe però di farlo morire in culla. E così Sorgi azzarda due scenari paralleli ma conciliabili, da una parte, potrebbe promuovere un accordo soltanto tecnico con Enrico Letta per i collegi, dall'altra potrebbe lasciarsi lo spazio per una provocazione politica clamorosa candidarsi nel Collegio 1 di Roma, della serie, o votate per me o perdiamo insieme, e valutare dopo l'alleanza per il governo. Grazie a tutti!